in che modo la Magliora riesce ad allontanare palla che arriva comunque fuori rimessa dentro per la grandissima girata di Cristian Conti 1-1 del Cotton Inolano ha la battuta con il destro su Monteforte di tacco il numero 10 è andato in contro presso il primo valo e ha siglato il 5-1 Grazie a tutti